Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video la raccolta è completa al 99% mettiamo dai, mettiamo al 99% adesso vi spiego il perché allora, mi sono arrivate oggi le figurine panini dalla panini le figurine mancanti perché non è che continuavo a prendere bustine me ne mancavano poche e ho completato effettivamente sia l'album che il contenitore delle card questo qua, ecco qua, si vede meglio ok e ho tutto praticamente nel senso, tutto quello che potevo ordinare la maglia bianca, il pezzo del trofeo ho finito tutte le squadre insomma, la raccolta è oggettivamente finita manca l'ultimo pezzo, questo qua vedete del film del Giro d'Italia perché mi mancano le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 figurine che verranno date però solo con la Gazzetta dello Sport il 16 giugno per il resto l'album è completamente finito a me è piaciuto soprattutto, guardate, vi do una confidenza vi dico una confidenza a queste pagine qua quelle con le pagine della Gazzetta con i grandi risultati mi hanno emozionato perché c'erano delle cose oggettivamente importanti dunque l'album è completato io vi dico la verità vi ringrazio per come posso dire per aver condiviso con me questa raccolta anche se ora è finita niente ragazzi io vi saluto vi ringrazio ancora per aver condiviso questa avventura con questo album finito al 100% 99% perché manca l'ultima bustina e vi saluto vi do appuntamento con i prossimi del canale ciao